Discesa cardinale Ferrara invasata alle investanti, uno degli scorci suggestivi del centro storico a pochi passi da Piazza Garibaldi e Palazzo del Carmine che collega a Corso Vittorio Emanuele a Via Paolo Emiliani Giudici, meglio conosciuta come Ascinuta De Scarpari nell'abbandono. Questa è la segnalazione giunta alla nostra redazione che abbiamo verificato con le nostre telecamere. Di fatto le investanti incorniciano gli angoli laterali della scallinata rendendo difficoltoso a chi la percorre, soprattutto alle persone anziane, salire e scendere i gradini. Una scalinata deturpata anche dalle scritte che imbrattano il muro. Un disservizio che, così come ci è stato riferito da alcuni residenti della zona, che hanno però preferito non rilasciare intervista ai nostri microfoni, è stato più volte segnalato alla polizia municipale e agli enti preposti, ma che di fatti sinora non ha trovato soluzione. Tant'è che c'è chi ha provveduto da sé a rimuovere l'erba dinanzi alla propria porta e chi ha derratizzato le proprie terrazze per scongiurare la visita inaspettata di qualche ratto che si aggira nei paraggi. Erbace anche nello spazio adiacente la scalinata. Nella piazzetta a Trepiciano invece, se da un lato sono tornate a fiorire le margherite gialle che ravvivono l'area dedicata all'artista nisseno, dall'altro le palme sono tornate nuovamente ad essere colpite dal punteruolo rosso che minaccia ancora una volta le piante. Questo è un ennesimo appello che i rappresentanti del comitato di quartiere Santa Croce hanno lanciato ai nostri microfoni all'amministrazione comunale. Praticamente la discesa di Cardinale Ferrara continua a essere piena di erbacce, è anche pericolosa perché sembra una selva, dalle fotografie che potete vedere sembra una selva. Se riusciamo a pulirle in dembo che c'è il mercatino domani e dopo domani sarebbe una cosa bella. E un'altra cosa che facciamo sempre pressione al nostro assessore addetto alle palme, si può sbrigare perché il punteruolo rosso ha colpito di nuovo le palme e si sta vedendo che ogni giorno qualche foglia in più della palma cade. Quindi sono delle cose secondo noi importantissime perché sono delle palme che per noi è la storia di Caltanissetta. C'è un bellissimo sito che si parla www.senzocivico.eu dove noi mettiamo periodicamente tutti i disservizi che ci sono nel nostro quartiere. Però non abbiamo nessuna risposta, però noi continueremo a fare come nel nostro buonsenso a usare questa applicazione che il comune ha e secondo noi è interessantissimo.